Grillo che si cambia da segretario del PD, Zingaretti che si dimette da segretario del PD. Se c'è una cosa chiara è che il governo Draghi ha terremotato l'alleanza PD-5 Stelle-Sinistra. Oggi è necessario ricostruirla, a partire dalle scelte concrete, da un dia di paese, dalle prossime elezioni amministrative. Noi ci siamo.